L'emergenza sanitaria è ormai il focus della politica nazionale non solo. Chiuse le scuole, evitate le manifestazioni e tante altre direttive straordinarie per tutelare la popolazione. Non proprio tutta la popolazione. Mentre le autorità iraniane hanno stabilito il trasferimento di 54.000 detenuti agli arresti domiciliari per evitare i rischi di diffusione del contagio, le uniche misure italiane volte alle carceri implicano solamente un ulteriore imbarbarimento delle condizioni detentive. Se da una parte il governo ha emesso un decreto affinché le persone evitino assembramenti, il carcere non viene toccato da alcuna misura deflattiva straordinaria. Le direttive del DAP impongono la sospensione dei permessi premio, dei lavori all'esterno e della semilibertà, la sospensione dell'ingresso dei volontari nelle prigioni, dei colloqui familiari, della ricezione dei pacchi e l'obbligo di partecipare alle udienze esclusivamente tramite videoconferenza. E questo nonostante sia più probabile che il virus entri nei penitenziari tramite il personale carcerario. Soprattutto il DAP dispone l'isolamento sanitario del detenuto sospettato di avere il coronavirus in cella singola con bagno privato. Il problema però è che non ci sono le celle. Secondo gli ultimi dati disponibili, vi sono 61.230 detenuti in Italia su un totale di 47.231 posti effettivi. E l'Abruzzo non fa eccezione. Nelle galerie della nostra regione i prigionieri vivono in condizioni di sovraffollamento disumane. Oggi il governatore Marco Marsilio, scortato dal garante dei detenuti Gianmarco Cifaldi, ha visitato il carcere di Chieti. A prescindere dalla vicenda coronavirus, sono tuttora in corso lavori di adeguamento nelle celle per i servizi igienici. Quindi sta comunque migliorando una struttura che già in buone condizioni ho trovato anche un clima sereno. All'esterno del penitenziario Tietino è stata allestita una tenda per il triage sanitario dei detenuti, seppure finora non sia stata utilizzata. Ma quello di Chieti non è neppure uno dei penitenziari abruzzesi più affollati, si è equiparato ad esempio a quelli di Pescara, Teramo o Sulmona. Tra i detenuti l'allerta è altissima. Nelle lettere inviate ai propri cari si parla di trasferimenti strani, che inducono nei detenuti la paranoia che il virus sia già in alcune carceri, ma che la notizia non venga resa nota per evitare rivolte. Le carceri, insomma, sono una polveriera pronta a esplodere. E forse sarebbe opportuno, secondo quanto chiedono alcune associazioni per i diritti umani, di valutare seriamente un provvedimento di amnistia indulto almeno per una parte dei detenuti.